Coach Battocchio, prima della trasferta, l'ultima trasferta di regular season a Prata di Pordenone, come è andata la settimana, come arriviamo all'incontro? La settimana l'abbiamo gestita in maniera un po' differente, perché come ci avviciniamo i playoff dobbiamo iniziare a ragionare molto anche sulle energie e quindi lavorare e puntare più sulla qualità dell'allenamento. Poi fatti giocare sabato e avere una trasferta così lunga chiaramente ti impone di gestire in maniera un po' diversa settimana. Però è andata bene come sempre e abbiamo voglia di misurarci con loro su una scuola molto forte che ha un ritmo di gioco altissimo, che batte molto bene, che difende, che copre tantissimo, che ti obbliga a fare molte azioni lunghe e quindi sicuramente sarà una partita bella tosta e un avversario molto complicato, coltutto in un buon momento con il quale sarà un piacere confrontarsi. Prata si sta giocando effettivamente il quarto posto e anche loro saranno belli agguerriti proprio per poter giocare la prima in casa. Cosa dovremmo fare noi per prendere da subito la partita con il piglio giusto? Sì, confermo, stanno giocando il quarto posto. Saranno molto agguerriti secondo me perché è una squadra molto agguerrita, è una squadra che ha carattere allenatore, che è veramente bravo e che è oltretutto una persona splendida, quindi sarà un piacere ritrovarlo. E poi è una squadra forte, una squadra molto molto forte, quindi al di là di tutto vorrà vincere come gioca per vincere tutte le partite. Dovremmo essere molto 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 bravi a saper soffrire tanto perché ci metteranno alle corde, lo sappiamo, e dovremmo essere bravi a fare una partita dalle corde. Come sempre, grido di battaglia? A tutto fuoco!